Ben tornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trebi Meteo per la giornata di martedì che guardate vedrà un miglioramento del tempo nelle regioni settentrionali. Sarà presente questa zona di bassa pressione sul Mediterraneo occidentale che però per il momento rimane abbastanza lontana dall'Italia quindi ripeto giornata discreta da nord a sud. Controlliamo la nuvolosità attesa sull'Italia si vedono queste nubi associate a quella zona di bassa pressione sul Mediterraneo occidentale che di tanto in tanto lambiscono la Sardegna e il versante tirenico ma senza raggiungere in maniera decisa queste zone quindi come vedete in tutta Italia non mancheranno ampie schierite. Precipitazioni si attenuano le piogge al nord e quindi in tutta Italia sarà una giornata tranquilla. Nell'area interna delle isole maggiori potrebbe verificarsi qualche locale acquazzone però fenomeni per lo più isolati. Quindi in definitiva ci attende un martedì buono tranquilli in gran parte dell'Italia anche se ripeto qualche piovasco nelle aree interne di Sardegna e Sicilia sarà sempre possibile soprattutto nelle ore pomeridiane e inoltre vi segnalo un po' di vento si farà sentire al centro sud richiamato da quest'area di bassa pressione presente appunto sul Mediterraneo occidentale. Per il resto tutto tranquillo e temperature come vedete ancora più estive che autunnali ma per sapere nel dettaglio cosa capiterà proprio da voi scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo.